Ora siamo sulla strada che porta Uru, pata pata, pata fiata, non so come si chiama. Rassomiglia un po' a questa strada, alle lunghe strade che attraversano la California e gli stati... Anzi i falchi, prima di falchi... Per di mosche... Questa giornata sembrerebbe calda, anzi anche calda, ma c'è questo venticello piuttosto forte che... Questa è abbastanza bene via Valli, Caravanzi e Ragli che da altri high springs vanno verso la costa centrale, dove fra circa due ore, no, due ore e mezza... Arriveremo. Sì, fra due ore e mezza arriveremo a Yars Rock nella parte del monolineo. Il viaggio è piuttosto muignoso perché non è che ci sia un gran bel deserto da vedere e non c'è un po' di vegetazione. Il venticello è abbastanza... Pizzicante. Abbastanza... Diocevole. Siamo fermati per una breve sosta, questo punto scottuto nell'autorio finitale. Certo? Siamo fermati...